Siamo nella splendida Baia di Sant'Erenzo, dietro di noi una spiaggia libera attrezzata, poi una spiaggia libera sullo sfondo gli stabilimenti, un'estate che sarà all'insegna del distanziamento sociale anche sulla spiaggia, sulla battigia. Questo hanno deciso il Governo e ha disciplinato la Regione con le sue linee guida, ci ha dato delle distanze da rispettare e noi sindaci ci stiamo dando da fare per tenere comunque le spiagge aperte, per consentire comunque di fare il bagno, non a tutti ma alla maggior parte dei nostri concittadini e soprattutto a mantenere le spiagge libere e gratuite. Questo è l'impegno che abbiamo preso, questo è quello che stiamo facendo in questo momento. C'è stata una polemica, Sindaco, sul fatto che ci sono stati messi dei paletti percorsi con delle corde per limitare l'accesso agli scogli. Ecco, lei come risponde? No, quella è ciò che serve per poter usare gli scogli quest'estate perché immaginate che una persona arrivi sugli scogli con 5 o 6 vicini che quindi poi dopo un quarto d'ora siano raggiunti da qualche centinaio di persone se non di più arrivate da tutta la provincia. A quel punto dovrebbe intervenire la Polizia Municipale, e fare allontanare tutti perché si è creato un assembramento. In questo modo, come dicono le linee guida dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, andando a delimitare queste aree e creando un unico ingresso, si può consentire o col sistema della prenotazione o col sistema della limitazione all'entrata a chi è dentro l'area di godersi tranquillamente per il periodo che può farlo quello spazio e fare il bagno senza avere il timore che qualcuno lo faccia allontanare o di incorrere in violazioni di norme e di prendere quindi dei verbali. Perché io spero che a nessuno sfuga il fatto che le spiagge potrebbero essere la tomba della ripresa, perché le spiagge, se mal gestite quest'estate, potrebbero essere i nuovi centri di focolaio e quindi farci tornare indietro al lockdown e questo sarebbe inaccettabile. Ecco, l'Erici durante l'estate sarà frequentata, sarà visitata anche da tutti i cittadini provenienti dalla provincia. Sarebbe necessario anche un lavoro di coordinamento con l'istituzione provinciale? Questo purtroppo non sta avvenendo, non capisco come mai. Mi auguro che il Presidente della provincia si faccia sentire e dica ai cittadini della provincia di Spezia qual è la situazione e che devono seguire quelle che sono le indicazioni dei sindaci, perché i sindaci stanno attuando le decisioni prese dal governo e prese dalla regione Liguria. Noi non stiamo inventandoci nulla, non siamo quelli che decidono che quest'anno le spiagge devono essere riservate solo a coloro che potranno prenotare un posto. Noi questo non l'abbiamo deciso, noi questo lo stiamo subendo e lo stiamo organizzando.